Da dimora privata ad alloggio popolare il recupero di Palazzo Banti in pieno centro storico a Castiglion Fiorentino, paese della Valdichiana, a Retina, consentirà a nove famiglie di avere un alloggio. È un percorso intrapreso dalle precedenti amministrazioni che tra l'altro prevedeva appunto la riqualificazione di un palazzo all'interno del centro storico nel quartiere di Porta Romana e che in questi ultimi anni ha avuto il suo termine, la sua conclusione e quindi oggi è una giornata positiva sicuramente per queste famiglie ma è positiva per la città e per il quartiere di Porta Romana. Di questi nove alloggi sette sono assegnati a cittadini italiani senza fare nulla, solo applicando la legge, quindi questo vuol dire che purtroppo, io dico prima gli italiani, purtroppo vuol dire che anche gli italiani e soprattutto gli italiani hanno un'emergenza abitativa. Timora signorile degli anni tra l'Ottocento e il Novecento poi caduto in rovina e disabitato oggi dopo un lavoro accurato sotto la sorveglianza della sovrintendenza ai beni culturali e grazie ad un investimento della regione toscana attraverso Arezzo Casa il palazzo tornerà nuovamente ad essere destinato ad edilizia residenziale e per di più pubblica. Abbiamo impegnato poco più di un milione e mezzo di euro compreso l'acquisto, i due terzi è stato per l'acquisto e il resto per i lavori di recupero, di restauro perché di restauro si è trattato. Quando le risorse pubbliche riescono con il loro utilizzo a centrare obiettivi multipli è sempre una grande soddisfazione. Questo vale per il recupero, la ristrutturazione, la riqualificazione di una parte di paese oltre che di un palazzo quando l'intervento è per edilizia popolare come in questo caso ma può essere anche l'esempio del mantenimento delle scuole per esempio all'interno dei centri storici, comunque di servizi che contribuiscono a qualificare e a far vivere questi aggregati che sono veramente straordinari e che dobbiamo cercare di non far spopolare.